Ha stato presentato a Bari il B-Fest, sentiamo il servizio. 338 appuntamenti in programma, oltre 400 ospiti, tributi, opere prime e antiprime internazionali, documentari, cortometraggi. Questo e altro è il B-Fest in programma a Bari dal 5 al 12 aprile prossimi. Promosso dall'assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo e prodotto dalla Puglia Film Commission. Il Bari International Film Festival quest'anno compie 5 anni ed è dedicato a Gian Maria Volontè. Un appuntamento importante che anche quest'anno riserverà sorprese, come ha sottolineato il direttore Felice Laudadio. Quest'anno sono particolarmente importanti. Pensare che cominciamo col premio Oscar Paolo Sorrentino il 6 aprile e chiudiamo con Andrea Camilleri il 12. Ma c'è una novità che annuncio in conferenza. A condurre l'incontro con Camilleri sarà PIF. Dunque, formidabile occasione per aggiungere al tradizionale pubblico del cinema anche il pubblico vastissimo di ammiratori e di fan di un personaggio fantastico che è PIF per Francesco Di Liberto che peraltro con Camilleri parlerà di mafia. Tutte e due sono siciliani. Camilleri ha lavorato a lungo nei suoi romanzi nella scia di Leonardo Sciascia che sarà uno dei protagonisti della discussione fra i due sulla mafia, contro la mafia. E PIF ha fatto un film che si chiama La mafia Uccide solo d'estate. Dunque, insieme di ragioni che ci fanno temere che il teatro Petruzzelli, che pure ha 1500 posti circa, sarà incapiente rispetto a tutti quelli che vorranno seguire Camilleri e quelli che vorranno seguire PIF. Vedremo come risolvere il problema. Tutti in piedi. Assessora, un festival quest'anno dedicato a Volontè. Lei stava raccontando prima un aneddoto della sua infanzia. 500 anni fa, quando ero giovanissima e Volontè era bellissimo, oltre che vivo, facemmo un festival nazionale dell'unità del Partito Comunista Italiano. Lui serviva ai tavoli, noi ragazze del PC, molto comuniste, eravamo terribilmente innamorate di quest'uomo meraviglioso. Ma quest'anno il festival è anche appuntamento con la Natura e il Parco dell'Altamurgia. Quest'anno noi festeggiamo il decennale del parco, quindi abbiamo una serie di iniziative, diciamo, di qualità. Tra queste, appunto, la partecipazione al BIF, ho chiesto a laudardio di ospitarci dopo il successo che ha avuto nel nostro film documentario di 40 minuti, Una terra strana, e gli ho proposto appunto questa sezione con otto film dedicati appunto alla natura nel nostro paese, ma non solo. Sono film scelti dal regista del nostro film, Eugenio Manghi, davvero belli, ai quali si potrà accedere a titolo gratuito, e quindi, insomma, io invito tutti quanti ad acuire la sensibilità ambientalista.